Gentili telespettatori, buona giornata. Sondaggio AMG Acqua sulle elezioni europee. Vediamo le intenzioni di voto. Fratelli d'Italia al 27,8%, il Partito Democratico al 20,7%, il Movimento 5 Stelle al 15,8%, la Lega al 9,3%, Forza Italia e noi moderati al 7,7%, Stati Uniti d'Europa, cioè Italia Viva, più Europa, Volta, eccetera, eccetera, 4,3%, Sinistra Italiana, Europa Verde, 4%, Azione Siamo Europei, 3,7%, altri partiti 6,7%. Grazie a tutti per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Arrivederci a tutti e grazie.